Salve, oggi parliamo di un libro particolare, inizia con questa epifania nel bosco dove la protagonista vaga e vede questi fiori, questi fiori metafore che ricordano appunto anche i quadri per esempio di Giorgio O'Keefe e anche alcuni lavori di Robert Mappeltorp ricordano e evocano insomma la duplicità della natura appunto sessuale, della protagonista, tema centrale del libro. La protagonista di questo libro è una conducente di pulmino e appunto gli adolescenti troconditi del titolo sono gli studenti che lei trasporta e all'inizio del romanzo c'è questa nolontà diremmo di iniziare, una non voglia di iniziare l'anno scolastico ma che poi pian piano si ravviva all'interno dell'anno con la protagonista, un libro davvero consigliato, buona giornata e buona lettura, ciao!